Andrea Segre, il tema dell'accoglienza, dell'immigrazione, insomma un tema spinoso in questo momento, come lo sviluppa? Soprattutto spostando lo sguardo, vorrei dire anche finalmente, su di noi e non sugli altri. Perché tutti questi dibattiti ormai vanno avanti da anni su è giusto accoglierli o è giusto respingerli, è giusto fermarli dove li mettiamo, c'è un grande assente che è noi cosa pensiamo. E questo noi cosa pensiamo, non significa che noi cosa pensiamo degli altri, ma noi cosa pensiamo di noi. Noi cosa pensiamo se domani i nostri figli non possono andare dove hanno bisogno di andare. Perché questa parola bisogno spesso viene confusa con la disperazione di chi deve scappare dalla povertà e dalla guerra. Tutto rispetto ovviamente per chi deve scappare dalla povertà e dalla guerra, ma sappiamo che la gran parte delle persone che si muovono non si muovono per questo, ma si muovono per un bisogno molto semplice. Voglio andare in un altro posto a vedere se in quell'altro posto sto meglio. È esattamente quello che ci dicono i nostri figli quando dicono, ma forse è meglio che vado a studiare ad Amsterdam o a Berlino o a Stoccolma perché lì c'è lavoro e noi facciamo i sacrifici economici per riuscire a mandarli a studiare ad Amsterdam o a Berlino perché lì speriamo che trovino lavoro. Cosa succede se domani Amsterdam e Berlino dicono i nostri vostri figli non possono più venire? Da che parte stiamo? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Da che parte stiamo tra chi ha bisogno e chi ha il potere di negare quel bisogno? Con Giuseppe Battiston c'è un'alleanza umana e artistica per me irrinunciabile. Giuseppe è un essere umano che contiene in sé l'istinto di diventare un essere umano per qualcun altro e di riuscire a parlare al cuore delle persone con dei gesti attoriali di altissimo livello e a Giuseppe peraltro devo l'occasione e l'opportunità di aver conosciuto Paolo Piero Bonne è stato lui che mi ha presentato Paolo quando abbiamo girato la prima neve è lui che collabora con Paolo da molto tempo hanno fatto uno spettacolo teatrale fondamentale nella storia del teatro italiano quest'anno che è la morte di D'Anton e di Martone come protagonisti aver potuto unirli in questo film è stato un grande onore e poi c'è un monologo che Beppe fa nel film in cui parla dei colori delle città italiane che vale la pena solo quello, andare a vedere il film solo per vedere quello e vi dico un piccolo segreto, era buona la prima, l'ha fatto una volta sola io ho sentito proprio i brividi, ho detto grazie e sono andato avanti non avevo bisogno di farne altre Segre e Battistone una coppia del cinema Veneto che ormai è diventata accreditata a livello internazionale però la regione Veneto lo sono dimenticata guarda io sono, mi sembra quasi di rischiare di sparare sulla croce rossa è stato talmente tanto goffo tutto quello che hanno fatto intorno a questo film che non voglio aggiungere critica, si autocriticano da soli nel momento in cui un assessore dice che si è dimenticato il film perché quel giorno non era in ufficio e non sapeva che nella brochure non c'era, beh che gli devo dire, c'è un'evidente carenza di competenza